Mettetevi comodi, 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 perché vi parlo di una power station solare veramente, veramente particolare. Ce ne sono tante sul mercato, eh. Questa è della Fullcent, è una marca che voi probabilmente non conoscete, però questa ha la particolarità di avere il miglior rapporto qualità-prezzo al momento sul web, su Amazon in generale. Ha delle caratteristiche interessanti, ve ne parlo dopo la sigla. Allora, rieccoci sul canale. Fullcent è un'azienda cinese, voi non la conoscete, e mi è stata offerta l'occasione di provare questa power station. Allora, io è un pezzo che ci stavo dietro, è un oggettino del genere. Sono esplosi queste power station negli ultimi 2-3 anni, complici anche un po' i costi esorbitanti dell'energia elettrica. Non che queste costino poco, eh, devo essere sincero. Però ci sono alcune caratteristiche, che anche questa ha, e ve ne parlo tra un po', che permettono di ammortizzarla veramente in pochissimi anni. Allora, brevemente, di cosa stiamo parlando? Magari voi non le conoscete. Questo è un accumulatore di corrente, all'interno c'è una batteria, una batteria capiente al ione di litio, l'IFEPO4 dell'ultima generazione di batterie, da ben 1200 Watt, o, se vogliamo essere più precisi, 1248 Wattora. Quindi questa in un'ora riesce a darci circa 1200 Watt. Pesa 14 kg, non è un peso piuma, ma sono tutte così, nel senso che il peso è dovuto dalla batteria, ed è una delle più leggere, tra l'altro. Come vi dicevo, la batteria è quella che va per la maggiore in questo tipo di prodotti, è una batteria lunghissima durata. Vi dico solo che una batteria così, a litio ferro fosfato, l'IFEPO4, ha una capacità di circa 3000-3500 cicli di ricarica. Ora, se per assurdo noi la ricarichiamo una volta al giorno, noi abbiamo circa 10 anni di autonomia, dopodiché scende intorno all'80%, ma continua a funzionare. Quindi invece che 1200 Watt ne avremo 1900-1950, quello che è. Questa è la grande capacità di questo tipo di batterie. Tutte le Power Station di qualità che trovate in giro hanno questo tipo di batterie all'interno. Poi ci sono quelle più piccole, quelle più grandi, quelle che si possono agganciare una all'altra per fare un tower di 3-4 kWatt, cosa che questo non ha, però questa ha la possibilità di erogare, come dicevo, circa 1200 Watt in un'ora. Vediamo brevemente le entrate e le uscite, dopodiché vi parlo di come è possibile utilizzarla a costo zero, anzi ve lo anticipo subito. Insieme a questa vengono forniti dei pannelli solari, 200 Watt di pannelli solari portatili, si aprono e si dispongono lì dove si ha il sole in quel preciso istante e in quel modo lì abbiamo caricato la nostra Power Station a costo zero. Ora invece io la sto caricando con la corrente di casa. In questo caso occorrono soltanto due ore per caricarla perché, vi faccio vedere, sto fornendo alla batteria 700 Watt e il massimo di potenza di ricarica disponibile e la si ottiene soltanto con la corrente di casa. Ora, dal momento che ho la fortuna di avere i pannelli solari, siamo in pieno giorno, di fatto la sto caricando gratuitamente. E questo è un altro di quei grandi vantaggi, se uno ha un impianto solare, un impianto fotovoltaico, altrimenti si utilizzano i suoi pannelli solari, ovviamente se c'è il sole. Allora, brevemente, vediamo un po' le uscite disponibili in questa parte frontale. Tasto di accensione, luce led molto forte, può essere anche utilizzata come SOS. Tutta una serie di uscite USB e USB-C. Allora abbiamo le USB standard da 2.4 A, abbiamo le USB-C, che sarebbero poi le Power Delivery, da 20 Watt, 20 Watt, ce ne abbiamo tre da 20 Watt e una da 100 Watt. Queste sono molto utilizzate oggi come oggi. Si possono attivare e disattivare da questo pannellino qui. Abbiamo qui l'uscita accendisigari, 12 Volt e 10 Ampere. Abbiamo i due jack da 3 Ampere, 12 Volt. Anche questi si possono attivare e disattivare premendo il pulsante, quindi non c'è nulla di attivato in automatico. Questo è molto importante. Ci spostiamo di lato. Qui abbiamo le uniche due uscite a 220 Watt, sono due suco. La potenza massima, se si utilizzano insieme, contemporaneamente, di 1200 Watt, quindi 600 Watt l'una. Se si ne utilizza una sola, ovviamente, abbiamo 1200 Watt di uscita. Corrente alternata, 50 Hz. Da qui la attiviamo. Qui abbiamo due ventole di immissione e ricircolo dell'aria per il raffreddamento interno della batteria. Questo è molto importante perché la batteria, tutte le LIFO PO4, hanno un range molto stretto di funzionamento. Lavorano fino a circa 40 gradi. Quindi il raffreddamento interno, che è estremamente silenzioso, vi dico la verità, è più rumoroso il climatizzatore che ho in questo momento, in questa stanza, che le ventole non si sentono per nulla. Quindi loro provvedono a mantenere la temperatura corretta internamente. In questa stanza, in questo momento, ho circa 25-26 gradi, è abbastanza caldo e loro stanno cominciando a lavorare, insomma, a velocità variabile. Qui abbiamo tutta la serie di caratteristiche tecniche e certificazioni. Attenzione, quando acquistate una parecchiatura elettrica, soprattutto se ha delle batterie, funziona 220 e quant'altro, assicuratevi sempre che ci sia il marchio CE. Questo è un marchio ovviamente indispensabile e obbligatorio per vendere le parecchiature elettriche, e non solo, nel nostro paese. Questo ce l'ha. E quindi ho accettato volentieri di provare questa Power Station, perché ho visto che come certificazioni era a norma e questa è la cosa principale. Per ultimo vi faccio vedere soltanto il pannello in ingresso. Qui, come vi dicevo, con la 220 sto caricando in questo istante con la presa a muro. Qui abbiamo invece l'ingresso Anderson. L'ingresso Anderson è un ingresso che si può interfacciare attraverso una prolunga che è fornita in dotazione, sia con l'accendisigali della macchina, che si può ricaricare anche con l'autovettura, il camper, quello che è, e sia con i pannelli solari. Finita questa presentazione, ci spostiamo all'esterno e vi faccio vedere un po' come funziona il collegamento con i pannelli. Mi sono spostato all'esterno perché all'interno questi pannelli, vi dico la verità, non mi entrano in casa, perché ho provato prima ad aprirli, sono veramente voluminosi, parliamo di 200 watt e la superficie è ampia. Allora vi faccio vedere la confezione con cui vi arrivano, ovviamente dentro una scatola ben protetti. All'interno della confezione si troveranno tutta una serie di cablaggi che serviranno per il collegamento dei pannelli solari alla power station e ad altre eventuali utility. Quello che servirà a noi sarà questo. Qui mi collegherò ai pannelli solari e con questo entro in questo ingresso qua. Vediamo tutto tra un minuto. Una volta che abbiamo visto i pannelli solari, vediamo di utilizzarlo al limite, come piace a me, fino a che non arriviamo al blocco del sistema. Io un po' ci ho giocato già e vi posso dire qualcosa già strada facendo. Comunque prima vediamo i pannelli solari. Il montaggio è di una semplicità veramente impressionante. Dietro, dopo ve lo farò vedere, ci sono dei fermi che si possono aprire, sono elasticizzati e si può trovare quindi la posizione, l'inclinazione migliore per prendere tutti i raggi del sole. Adesso sono le 17 circa da me. In questa posizione non ho più tantissimo sole, però ora vi faccio vedere la quantità di energia che riesco a ricavare dai pannelli solari. Mi avvicino un attimino al display. Allora il cavetto è lungo circa un metro e mezzo, non è tantissimo, però più che sufficiente insomma per posizionarsi poi nel modo migliore. Si può ovviamente utilizzare mentre si carica. Allora mi avvicino con la telecamera, vi faccio vedere il display. Alla luce del sole non si vede chiarissimo, mi metto un po' all'ombra. Sta caricando, ero al 98%, sta continuando a caricare. In questo istante io riesco a fornire con i pannelli solari 136 watt, 138 watt insomma, su un massimo teorico di 200 watt. Questi sono i minuti rimanenti per terminare la carica. Va da sé che i minuti vanno su e giù, vedete 19 e 20, in base alla quantità di corrente che riesco a fornire alla batteria. Due parole sul materiale di cui sono composti i pannelli solari. Ho scritto al produttore e volevo saperne un po' di più. Allora i pannelli solari sono ovviamente impermeabili. Mi avvicino e vi faccio vedere il materiale. Ecco qui, guardate, sentite, è un materiale plastico e impermeabile. Quello che non è impermeabile è la scatola di derivazione con i connettori, quelli che fuoriescono lì, che vanno poi alla power station. Quindi se c'è una pioggia, a parte il fatto che se piove ed è nuvoloso non serve a niente tenerli fuori, ma dovesse capitare che siamo colti di sorpresa da una pioggia improvvisa, bisogna togliere perché non sono certificati per stare sotto la pioggia. Vi faccio soltanto vedere la parte posteriore. Vedete, ci sono queste guide che si possono muovere e sono tenuti in posizione degli elastici e quindi è possibile montarli in una posizione migliore. Siamo giunti al momento dei test. Allora eviterò di collegare le porte USB e le porte USB-C perché, insomma, facciamo un po' ridere. Idem per quanto riguarda il jack da 3,5 e la porta accendisigari. Non mi interessano questi, nel senso che la batteria da 1200 watt è molto 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 più capiente di quello che possono consumare questi utilizzatori. Quindi per assurdo, a spanne, se questo è carico al 100%, inserisco una power delivery da 100 watt, io posso alimentare l'utensile che ho collegato, posso caricarlo, per 12 ore. Cioè, nettevi conto che è veramente tanta tanta roba, quindi a scendere il 20 watt impiego qualche giorno per scaricare tutta la batteria. Quindi non ha senso da questo punto di vista. A me interessava vedere come si comportava con gli utensili che normalmente possiamo avere o nel camper o in casa o in campagna. Io abito in campagna. Una delle cose che utilizzo di più è ovviamente il trapano. Ciò non toglie che questa power station, come tutte le power station che trovate sul mercato, quelle a batteria, sono particolarmente indicate per chi fa una vita all'aria aperta, ovvero per il camper, per il campeggio e naturalmente per la vita in casa. Ora io non ho camper ancora, non faccio campeggio ancora, però vivo in campagna. Quindi l'utilizzo che farò di questa power station sarà quello prevalentemente di UPS per quanto riguarda pompe della caldaia e di tutti i sistemi di ricircolo. Ovviamente accensione della caldaia perché se avevate visto il mio video sull'UPS che avevo provato, il Vultec ovviamente non era in grado di alimentarlo in fase di accensione. Questo è una sciocchezza e soprattutto questo mi garantisce più accensioni durante l'arco della giornata anche se sono senza corrente e ovviamente ho tutto il riscaldamento, quindi pompe, elettrocamino e caldaia che si baseranno e si affideranno a questa power station qui. Ciò non toglie che io spesso faccio lavori in giardino, nell'orto, in campagna, saldo, faccio trapano o una salatrice inverter. Questa mi può veramente venire utile. Allora partiamo da un trapano. Un trapano nel genere sono circa 900 watt. Ora 900 watt quando sottocarico. Se io lo accendo adesso e non sto lavorando, ovvero non uso una punta su un muro, su un legno, su un ferro, lui consuma circa 300-350 watt. Ve lo dico perché l'ho provato e ho provato anche con un wattmetro prima di fare questo test qua. Quindi so esattamente quello che consuma questo trapano a vuoto. Quindi lo proviamo e cominciamo a scaldare i motori. Vi ricordo che questo Fullcent ha due uscite suco. Se ne utilizziamo una sola abbiamo 1200 watt. L'altra però ovviamente non la possiamo utilizzare perché stiamo utilizzando tutta la potenza su questo. Ma dal momento che a me piace portarli al limite vi farò vedere cosa succede quando aumentiamo a dismisura la potenza in uscita e superiamo i 1200 watt. Vi faccio vedere cosa succede. Nel frattempo proviamo questo trapano. Mi raccomando solo succo qua dentro. Non facciamo accrocchi strani perché poi danneggiamo la macchina. Lui è acceso. Spero che si veda. Siamo al 98%. Ovviamente non abbiamo potenza in entrata e non abbiamo potenza in uscita. Zero e zero. Iniziamo. Picco da 450 watt stabilizzato a 270 e lì si è fermato. Tolgo il trapano. Ecco qui abbiamo la prova del 9. Ora su questo devo fare una premessa perché come vi dicevo ho provato già prima. Lui lavora da 1800 a 2200 watt. Ovviamente questo come vi dicevo ha un'uscita da 1200 watt. Ci mancano 600 watt per la potenza richiesta di questo asciugacapelli. Cosa succede? Se io lo collego la presa di corrente col wattmetro lui richiede 1800 watt, 1750 è quello che richiede. Se io lo collego qui lui mi eroga al massimo 1200 watt. Quindi l'asciugacapelli funziona esattamente come dalla presa di corrente. Gli mancano però 600 watt quindi ho meno temperatura in uscita. Le resistenze scaldano meno. Però lui funziona, non si blocca e questa è una grande cosa. Se abbiamo utensili che possono lavorare a una potenza leggermente inferiore a quella di targa questo le alimenta tranquillamente. Allora solo aria fredda, due velocità, 370 watt, una velocità di aria calda. Balsiamo a 1125 watt, diamo il massimo. Si abbassa la velocità della ventola perché lui più di 1200 watt non mi eroga. Però ho la velocità massima sia di aria che di aria calda. Ovviamente l'aria calda arriva funziona perfettamente solo che rende un po' meno rispetto alla presa di corrente normale. 1200 watt. Lui si è stabilizzato lì. Ora siamo al 97%. Vengo se no non vi faccio sentire. Guardate questa a sinistra il display mi indica 43. Mi indicava quando questo era acceso. Io avevo un'autonomia di 43 minuti utilizzandolo al massimo sempre acceso. Ora siamo intorno a 46 ore in stand by ovviamente. Siamo al 97%. Ora cosa succede quando io supero i 1200 watt che lui mi può erogare? Collego tutte e due le prese perché non ho capito come funziona o capitare. Quindi accendo il phon al massimo. 1200 watt istantanei. Attacco il trapano. La macchina va in protezione. Eccolo lì. Giustamente lui si deve proteggere da questa erogazione troppo violenta, superiore ai limiti imposti dalla casa madre, dal produttore. Quindi si spegne. Stacco tutto. Resetto. Riaccendo. Partono le ventole interne perché ha lavorato. Vi assicuro che è inudibile. Non si sente nulla. Li collego il phon. Clicco di nuovo qui a lato il pulsante per dare corrente all'uscita. Si è acceso il led verde e io sono pronto a lavorare di nuovo. Ha un'elettronica di gestione molto puntuale, molto precisa, molto conservativa. Non fa cose strane. È una buona macchina perché quello che vi promette è quello che vi dà, né più né meno. Allora siamo giunti alle conclusioni. Esistono due versioni di questa Power Station. La Power Station è identica ovviamente. 1200 wattora, 1248 wattora in realtà wattora. Quello che cambia nell'offerta del produttore è il pannello solare. Questo a 200 watt, c'è anche quello a 100 watt. Differenza è consistente in termini di prezzo. 929 euro con il pannello da 200 watt. 819 euro con il pannello da 100 watt. Ora, se voi lo usate in campeggio, sul camper e quant'altro, ovviamente il 200 watt come pannelli solari è la soluzione migliore. In 6 ore circa caricate la Power Station. Ora dipende più o meno, dipende dal sole ovviamente. Però, 6-7 ore, voi avete una riserva di energia da 1200 watt che veramente non è poco, assolutamente non è poco. Ha questo prezzo perché trovate qualcosa in meno come costo sulla Power Station ma non avete il pannello solare. Questo kit, l'ho visto, ho fatto una piccola ricerca di mercato, è quello che costa meno. E adesso avete visto anche come funziona e cosa vi può dare. Se invece siete, come me, che lo utilizzate permanentemente a casa, io lo caricherò il giorno nella presa di corrente perché utilizzo i miei pannelli solari. Ecco, spendete il meno possibile con 819 euro, ve lo portate a casa col pannello da 100 watt e siete a posto. È una spesa importante, mi rendo conto, sono soldi, sono parecchi soldi. Non si ammortizza in un anno, neanche in due. Però nel giro di 3, 4, 5 anni comincia a diventare interessante, soprattutto perché, come vi dicevo, ha talmente tanti cicli di carica, questo tipo di batteria, la litio ferrofosfato, l'IFEPO4, che ci lavorate una decina d'anni tranquillamente al netto di eventuali guasti elettroniche e quant'altro, sono imprevedibili. In 10 anni si ammortizza forse due volte, soprattutto se lo utilizzate in modo costante come lo utilizzerò io. E in campagna una cosa del genere è veramente importante da avere. Per carità, col generatore a benzina si fa uguale, però non ha queste funzionalità. Quello è per l'emergenza, questo è per tutti i giorni. E questa è la differenza veramente importante su un utensile del genere. In Italia sono arrivate da un annetto, due circa, ancora non siamo abituati ad avere un power station di questo genere. Noi siamo rimasti ancora ai generatori a benzina e a gasolio per le emergenze, e va bene. Però all'estero vi assicuro che questi fanno veramente la differenza, e vanno per la maggiore. Si stanno affacciando anche in Italia. E questa azienda qui, la Fullcent, si è affacciata in questo istante, in questi mesi, insomma, sul nostro mercato. Lavora già all'estero, e quindi se vi può interessare, dateci un occhio e valutate voi poi se fa al caso vostro o meno. Io ringrazio Fullcent, me l'ha inviata in test. Mi ha fatto molto piacere questa collaborazione. Ho imparato anch'io cose nuove, perché la mia prima power station, anche se ho visto tanto, ho letto tanto, perché ero intenzionato a comprarne una, appunto, per la mia caldaia, che facesse da OPS e, insomma, il cascato a fagiolo, ho imparato molto su questa tipologia di utensili. Quindi spero di avervi aperto un mondo, come mi si è aperto a me quando mi è arrivata, insomma. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.